Ciao ragazzi, benvenuti con questo vlog, io sono un soggio e ragazzi siamo con la stream OOOOH Un soggio e ragazzi siamo a Mirabilandia E ovviamente ci siamo tutti quanti E che cosa andremo a fare? Oggi ragazzi andremo a fare un pochettino di casino sulle giostre Siamo a tema Halloween Quindi dopo andremo tipo nei posti proprio Dove ci dobbiamo spaventare, giusto? Eh te mi ci sono... Se uno viene da me e mi fa... Io ti spiego di tirare un destro oppure non vuoi sapere niente Ma raccomando frappi che sta cosa la voglio bloccare Ragazzi ci vediamo dopo direttamente Allora ragazzi vedete che ci siamo persi Si sta chiamando Andas Si si sta chiamando Si Perché ragazzi siamo rimasti solamente in sbito a farci delle foto con dei ragazzi Gli altri sono andati avanti E ci siamo totalmente persi Quindi adesso stiamo provando ad andare avanti E sarà un bel problema ma adesso vedremo Dove stanno gli altri? Ci vediamo dopo perché qua sarà l'impresa a trovarli Ma che ooooh Perché alla fine noi abbiamo trovato i ragazzi Abbiamo fatto pure In giro Sono morto Porca di quella putt... Ragazzi stiamo entrando a fare l'icepeed Ci sarà un po' di fila E onestamente ho abbastanza paura Però lo dobbiamo assolutamente fare È la prima volta che faccio l'icepeed Perché l'unica volta in cui sono venuto Qui a Mirabilandia C'era due ore di fila Perciò ho evitato Adesso vedremo Perciò ho avuto Sì, 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 sì Se ce la fanno loro ce la facciamo fare qui Ce la facciamo fare Ce la facciamo fare qui Ah c'è una schiera Bravo C'è stata una certa che ha sbattuto proprio l'orecchio Bravo anch'io Ammetta che è stata una bomba Poi i capelli saranno scombinatissimi Adesso compro il video Oh regà c'è la torre L'ho fatta qualche anno fa Mi sono cagato troppo sotto Perciò non esiste Andiamo a fare questo qua con l'ufo Questo? Sì sì ci piacciono l'ediente Ehi rimuendo sullo spazio Ok ragazzi c'è Antonio che ha deciso di fare le zentorri È bella Io ti clipo tutte anche quando scendi Io mi vicino Vedo come mi sento E poi Antonio 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 È ancora ancora Antonio Antonio Antonio, hai letto Danger, bravo, è pericoloso, fammi sentire il cuore, no, no, io sono un combattivo, un combattente, un combattente, oh, vedremo poi alla pia, dai Anto, uscia, vieni qua, uscia, dove, vieni qua, uscia, non posso, vai Anto, carico, faccia, stia, sta morendo, ragazzi appena scende voglio vedere assolutamente la sua faccia, Allora Anto Non farà più Raga Antone è andato È andato Anto È rimasto traumatizzato Anto È morto È morto Eccolo qua Com'è? Com'è stato? Ti è piaciuto? Ti sei spaventato? Non ti sei spaventato affatto? Perché non ti respiro Ah ecco Stai morendo Mamma mia Mi hai caricato Sì è pronto di essere Cattapultato verso l'alto Ragazzi siamo ancora qui Ho sete Però ho fatto la pipì Così non mi pisce l'osso Oh Sei pronto Se quello è il peggiore Adesso posso far tutto Adesso posso far tutto In verità è il contrario In verità è il contrario Quello è il peggio È quello di adesso Mamma mia Non è vero Ma 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 non è vero Vedremo come sarà questa roba Uilsà Io ti amo Io no Ma partiamo Ma parte a boppa Musà Come funziona Questa roba Parte a boppa Sì O scende a boppa questo è un parte questo è il busto ben appoggiati allo schienare 3, 2, 1 non vi amo vai più, vai più vai con vai più allora Anto che se ne pensi che mi è andata è stato in easy vero il ciuffo mi sa che dice tutto però mi, oh ti giuro fratello eravamo così ragazzi c'era lui che mi stava tenendo da qua e mi ha interato un pizzicotto qua no non mi ha fatto cosa no ma infatti mi ha detto una certa e mi ha detto che faccio però per il resto raga è andato abbastanza bene stiamo facendo tutte ce l'abbiamo fatta ci facciano tutte dei guerrieri dei guerrieri esatto io ovviamente per l'altra non la faccio però questi sono solamente i miei dettagli Anto quanti tiri hai? quanti soldi hai messo? 5 euro ok concentrate mi raccomando no cavolo di 3 di 3 peccato hai uno bittimo si sta focussando il ragazzo c'è solo te e l'obiettivo gli altri non ci sono Antonio 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 mi manca uno calma cecchino italian sniper è lui tu è lui quello ricordati è il tuo peggior nemico Antonio no no ok è possibile fidati devi solamente credere in te stesso è rimasta una è rimasta una attenzione è uno dei mondiali Anto fai piano che non ti ricapirà mai più dai bravissima 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 veramente arca miseria ussa mamma mia è bucata oh tu in un tiro puoi far cadere tutto ho fatto cadere la mia dignità ho fatto cadere vai sblitto oh si ma il peluche oh un guarame anche te fuori fuori dei giochi perché se tu non prendi forte ma le scoppiamo vai ma le scoppi ma tu scoppi le palline ma che le sorgue che scoppiano concentrato faccio leggere quella ecco là ecco là meno male ma tanto un peluche ce l'abbiamo oh eh se altri due oh fammi rifarmi tu io e te io e te l'ultimo io e te vai vai ho sblitto un tiro io un tiro te vai che ce la fai oh 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 è dopo è dopo oh oh però aspetta se tu lo tiri giù guarda c'è me lo dà me lo dà sì ok dai oh 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 aspetta guarda 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 Antonio no no guarda tanta roba tre tanta roba abbiamo finito dai finalmente attenzione la scelta dei peluti vai Veloce Ho sblitto E panda Ma che panda frate Ma prenditi quello Dammi questo Oggi prendi quello Il gedi Il gedi Di nuovo Dai non è uno gedi Che quale vuoi che te lo regalo io Vale E panda Quindi un bevione e un panda Si E perciò noi ragazzi Non vogliamo vedere la fine di questo vlog Se vi piaciuto lasciatemi il like Un commento magari Fatemi sapere i miei commenti Cosa ne pensate Ragazzi Antonio ragazzi Antonio ragazzi Ha spaccato Oh quant'è che hai speso in totale? In realtà 25 Lasciamo perdere 25 dai Forse di più Quanto costano sti cosi in realtà? Non lo voglio neanche sapere Raga Noi ci becchiamo Al prossimo vlog Bella raga